Cocaina, hashish e 50.000 euro nascosti sotto vuoto, un vero bazar della droga che un 54enne aveva nella sua abitazione e nonostante tutte le restrizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 riusciva a spacciare. L'uomo italiano incensurato, residente a Monte San Ziavino, nella Valdichiana, a Retina, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, stata portata avanti dai militari della compagnia di Cortona, era iniziata la scorsa estate nel luglio 2019 dopo la segnalazione di un continuo via vai da e per l'abitazione del 54enne. Gli inquirenti hanno scoperto che il domicilio dell'uomo era ormai diventato un centro importante di spaccio che vantava tra i clienti diversi cittadini della zona, alcuni già noti alle forze dell'ordine, altri insospettabili. Per la perquisizione domiciliare che si è svolta il 14 di maggio, i militari della stazione di Monte San Ziavino sono stati coadiuvati da un'unità cinofina del nucleo di Firenze. Sono stati così rinvenuti circa 200 grammi di cocaina, 100 di hashish, 10 spinelli già confezionati e occultati all'interno di un pacchetto di sigarette, 300 grammi di sostanza da taglio, diversi bilancini e una macchina per il sottovuoto e 50 mila euro in contanti nascosti in diversi sacchetti, tra scarpe, vestiti e alcuni anche in cantina. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.